Ciao a tutti ragazzi, io sono Carlio e che Carlio e benvenuti in questo nuovissimo video di Fortnite! Oggi sono in compagnia di... tre pro player Un god! Eccomi, sono proprio io! Ciao! Aspetta, aspetta, eccomi qua! Oh, ok, eccomi! Che belle skin che avete! Ciao, DeMarc! Ciao! Come ti permette, oh! Potevi chiamarti Mr. DeMarc o Il DeMarc? È bello, no? De DeMarc sarebbe bellissimo! De DeMarc! De DeMarc, te e te! Allora, siete pronti a fare vittoria reale, ragazzi? Ah, quindi questo lo dobbiamo fare? Solo questo bisogna fare! Io l'ho già pronto, non lo so, a trollare la gente... Cioè, boh! Mi piace, mi piace, mi piace! Se bisogna fare solo vittoria reale, che ci vuole? Io penso che dovessimo conquistare una nazione! No, 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 solo vittoria reale! Per me ce la possiamo fare! È easy! Ok, mi piace! Ce la puoi fare? Ma ci credi? Sì, 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 io sono un altro player, tutti lo sappiamo! Qual è la tattica, Carli? Allora, per me dobbiamo atterrare in un posto lontanissimo! Ok! Qual è il piano? Dove ci buttiamo, Roger? Dove andiamo, giovani fuoriclassi! Allora, io... Io... Mi andare tipo a Campococco e lontano! Ah, raga, ma è lontano? Ma no, andiamo qua! Vai, vai! Andiamo tipo a Chunker! Allora, andiamo qua! Andiamo qua, andiamo qua! Chunker è sempre top posto, dai! Io prendo i guanti Spiderman lì sotto! Dove sono? Perché non l'idea a me? Eh, non ve lo dico! A me non viaggia! Io lo so dove sono! Senteveli voi, i guanti di Spiderman! Ce ne è uno nel canyon! Perché non ti piacciono i guanti? Che sono top! È l'aggiunta migliore di Fortnite! Sì, però, dopo che ho visto che li ho usati i tuoi, hai preso il danno da caduta! Vabbè, ma è capitato una volta che... Ma che stai da dire, mi hanno sparato, non era per quello... Ma che è sparato, non c'hai le mani di vento! Tutte scuse! Cioè, una volta su 30.000 ho preso la mano! È un abbo! Vabbè, basta, mi ritiro, non dico più niente! A casa! Io sono molto lontano da voi, raga, ma perché sono andato a prendere i guanti Spiderman! Ecco, ti pareva! Quello che deve dryardare subito! Bravo, Marco! Ma li sprega tutti! No, raga, il mio mouse che non funziona, perché ci ho buttato l'acqua sopra! Tutte le scuse, il mouse non funziona! Ma scusa, non le mani! 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 Non ho le mani! Sono scarso! Va bene, raga, la prima kill me la sono aggiudicata io! Aia! Per mettere un po' di pepe, io direi che la persona che ha fatto la kill non può più utilizzare nessun'arma per il tuo game! Beh, a me non so lo so! Io farei che chi fa meno kill fa una penitenza, cioè scusami a sto punto! No, raga, lo butto, ve lo giuro! Amore, se tra un po' vedi il mouse che si sfracella sul muro, hai capito cosa è successo! Ok, io sono la seconda kill, non vorrei dire! Grande! Qua mi sento l'unica pro player! Veramente, Carli, non trajardare! Cioè, mica stiamo cercando di vincere, oh! Carli, per il sto compleanno ti regalerò una cappatoio, se vuoi! Ma ti vero fatto gli scudini! Sì, ti regalo uno, anzi, ti regalo pure questo! Raga, letteralmente non funziona più! Non farlo volare! Non spaccare tutto! È l'unico modo per farlo funzionare! La prossima volta non tieni la bottiglia aperta su, scrivania! Eh, va bene, è successo solo una volta! Ti prendi una borraccia? Eh, ho già la borraccia! Oh, mi piace perché... E se vuoi te la regaliamo una che non si distrugge! Mi dice sempre, eh, l'acqua, no? Tenere vicino a scrivania, ti scoppia il computer, poi è la fine! Aia! Oh, è capitato una volta! Coppia il computer mi mancava! Quindi, Kendall predica bene ma razzola male! Esatto! Kendall è come mia nonna! Ma cosa c'è il tuo nonna col computer? Ti scoppia il computer! Poi... Quanto sono di Buddy a un negozio di computer? Sì! Lei fa le mod proprio dei computer! Che forte! Per tutti le montate! Oh, raga, io sono... Non vorrei dire, ma sono il migliore! No, raga, io sto andando a pushare, io ve lo dico! Ci vediamo tra mezz'ora! Ma dove siete? Eh, dove sei tu? No, sono io che sono lontano! Io sono qua, voi dove siete? Eh, io sono qua! Dai, andiamo a trovare qualcuno? Sì, dai! Andiamo! Andiamo! Mamma mia, guarda che se la trovi in 1v1 insieme! Allora, aspetta, io voglio prendere una macchina però! Eh, sì, se la prendi magari carica... caricami! Vi carico? Sulla strada, sì! Carica anche me! Oh, sto mouse! Lo giuro! A me no, perché non voglio stare con Buddy! Oh, va ti va ti stavete tutta la gente vicino a te! Datemi un minuto che vado su Amazon, un attimo! È tutta per me! Arrivo! Ho preso tanto la caduta, bene! Uno ho fatto! Cosa? Adesso andò Kendall da voi! Doppia kill! E adesso chi ha due kill, Carly? Eh? Io! Appunto, non è che gliele togli se le fai anche tu! Eh, ce l'ho anch'io però, ok! Sparite macchina! Oddio, il mouse funziona! Andiamo! Ma che funziona? Che mi si blocca una volta sì e l'altra pure! Mark, mi dispiace, è una macchina per due! Mi stanno sparando! Ma come la macchina per due? Oh! Aspetta che lo cechino! Investiamolo! Dove sono? Pingame, libero! Vai, 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 vai! È morto, è giù, è giù! Terra! Che marca ha fatto di tutto, eh! Che delirio, ragazzi! Che delirio, ragazzi! Dei mar che sta farmando, in realtà lo vedo! Sto farmando bitcoin! Come che carli! Aspetta! Ok, che se poi fa il titolo come farmare bitcoin è top pubblicità! Sono aspettati, per favore! Sono arrivato a 126 livelli! Andiamo qua, raga! Dove c'è il pink blue! Perché almeno andiamo verso la safia! Kendall, non è che per caso ti puoi fermare! Ma io sto volando! Sì, è vero! Amore, dove stai andando? Cioè, contro le coste qua! Io stavo andando... Andiamo a piedi, dai! Andiamo a piedi, dai! Andiamo a piedi! Vai! Ma lo stavo cecchierando io! Avete? Avete? Oh, la capite verso la safe! Vai! Andiamo a arrivare in macchina! No, se guida carli siamo fregati! Ecco, punto! Ecco, punto! Io vado a piedi, ragazzi! C'ho la roba di Spider-Man! Ci vediamo adesso! Adore, fai una inversione! Io non ho preso la patente! Guarda, io verrò a Bologna e farò guidare carli nella mia macchina, tanto automatico come guidare un go-kart! Guarda, c'è rischiato il pericolo! E' finito il carburante! Eh, vabbè, andiamo a sentire! Tanto siamo in safe tranquilli! La gente da te dove, Marco? Eh, io sono... Ah, quindi la pompa di benzina l'ho già vista è tutto mio! Io ho sentito! Dove? Ah, davanti davanti! Guai a voi se mi rubate la kill! Guai impattisco! Grido! C'è qualunque cosa! Rubata! Rubata doppia, tra l'altro! Scusa! Ma mia, io non ho parole ragazzi! Sono troppo forti ragazzi! Io non gioco più con voi! Vi rubo solo! Non ti sentire così! Quante che gli avete ora perché io ne ho 4? Zero io! Eh, sai, rubarle sono capaci tutti! Non ho capito io! Senti come rosica! Sì, infatti contro rosi! Ma io sono comunque... Raga! Raga! Non mi fa arrabbiare eh! Vengo a prendervi a tutti! Ve lo giuro! Paddy un castorino a diventare dal dentista! Sono uno tipico bambino di Fortnite! La pizza viola a cosa serve? Rigenera la vita e basta! Non lo so! Io non ti mangio una pizza viola! Sì, è vero sarebbe scaduta! A me piace! Come fa con l'ananas uguale? È un'uffita! Boh! Oppure con il radicchio! Pizza con l'ananas totale! Mettila! Vatti! Vatti! Io non mangio la pizza direttamente! Ma l'hai davvero assaggiata? Io sì! Ma io l'ho... Allora tu... Una delle prime live che... Vatti smettila! Non dire resire! Non dire resire! L'ho mangiata davanti a tutti! Ve lo giuro! Nooo! Nooo! E' stato bellissimo! Toglietegli la cittadinanza per favore! Non sei italiano! E' stata la miglior live che ho io... Beh beh beh! Beh beh beh! E poi non si vantare che fai tortellini coi piselli! Allora! Facciamo un po' di silenzio! Sì no! Beh! Ma scusami eh! Fa tanto il cittadino italiano e poi dopo fai tortellini coi piselli! Vabbè io... Aspetta! No no no! Aspetta! Se dobbiamo fare questi dissing... Tu metti la noce moscata nella carbonara! Ah beh! Vabbè dai! Ma poi parlate di me! Allora scusate! Eh no! Se dovete prendermi in giro vi difendo! Ma vabbè! Ma mia madre la faceva così! Io dopo sapere! Ma cosa vuoi dire? Vabbè! Scusate! Miamo la mamma di Carli! Per favore! Ma il problema che sono io! Vabbè mi avete stancata! Vado via! Ciao! Ma dove vai? Ma scusate! E' diventato un episodio culinario oppure dobbiamo uccidere la gente? Vabbè! Ma c'è nessuno! Di far silenzio! Ah sì! Tu non sei più italiano! Mangi la pizza con l'ananas! C'è lì un'auto che... Senti il tortellino che piselli! Senti il noce moscata! Ragazzi non è tornato! Sì! Qua c'è uno! Ma dove? Ma è una persona vera o un botto? No! Ragazzi è un botto! Scusate! Eh! Gli ho sparato scusate! Eh! Dove rift? Ma dice una persona vera raga! Qua c'è una persona vera! Dove? Dove? Qua! Sta saltellando! Guardate io che sto scendendo! Questa è mia! Questa è mia! No no body lasciaci da Tyler! Ma tanto ci amore! Grazie! Guardate peterra! Vabbè cazzoamico! Questo è lo spirito giusto! scusami a cosa stai dicendo l'italiano sono capace a giocare o c'è gente 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 attenti attenti preparati via la guerra tra i boni date boni a te boni ragà davanti a voi non lo vedete in acqua ma ce n'è un in acqua che si l'ha vista la vista la vista sul cammino è morto è morto è morto mangiato delle klinger attenta allo squalo attenzione che poi esplode una terra stilata marco azione ho fatto solo 30 fatto tutto il resto che gliel'ha tolto babbo natale ha fatto solo 30 nel senso che ho fatto più 30 io mi avete ammazzati ragazzi non litighiamo per favore ammazzati tutti da scappando su paida man grazie a bene per non lancia granate ok ok o ma io tipo 10 assist anche a 10 ma aspetta carlita hanno messo il coso cosa la tira no proteggetemi no sei capace di farò da solo non ti preoccupare bisogno ho bisogno di essere protetta tra un po tra un livello 2 vengono tutti qua ora aia mamma mia simbola perché colite ora che stanno riavviando hanno restato dove si ma pinnacoli a pinnacoli allora che prendiamo questa macchina dalla montagna appena appena tira fuori il nasino mamma mia si è visti o meno 19 è una banana non serve 29 ragazzi di pusho sono pazzo dai andiamo gli andiamo c'è uno spiderman qua a sinistra occhio andiamo con la salita in macchina non lo so ma non c'è il carburante usciamo dalla macchina sì che c'è il carburante sali perché non mi facciamo non sali che vai non mi faceva andare avanti ma quante ma colpa del mio mouse adesso adesso di saccarlo a destra un altro ragazzi alla lobby praticamente batti sali batti sali no aspetta sono su come un tipo ok ora posso salire i sali moviti aspetta aspetta ti prego però c'è la mia salita di viola la prende io sono voi tu ok scusate vai va di guida visto che tu sei l'unico sono io che guido non lo sto guidando di seguire una piccola non mi ero neanche accorto che stessi guidando chi è che sta guidando e marco nel fondo c'è gente tra la chi è che sta guidando io 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 non ti preoccupare il top pilota ma dobbiamo per forza inseguire la gente lì va bene andiamo ma mi piace te prante alla discesa stavo giocando a forte indichello kitty bro eh sì guarda che c'è abbiamo fatto la logica 13 il marchio se ne vada solo e vince ammazza tutti è perché marco tra yard attenzione alla safe marco perché per la terra perché pushi lo vuoi dire non più munizioni alta terra ditemi che avete delle c'è un cavallino una terra raga con l'altro aspetta quello c'è uno di vita raga e però ma gli sto spaventando con la c'è quello che non ho stilato io non ti preoccupare ma perché ma c'è un altro qua dietro pensateci voi io sono un attimo occupato occupato perché dove stiamo curando mi stavo il mouse che è dietro la roccia è dietro la roccia arrivo 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 sparata la roccia me lo tirate giù lo cecchino terra vabbè lo avete preso voi grande carli è uno spider man che sta arrivando non vi preoccupate arriva il god e di chi non c'è bisogno ce l'ho tutto adesso ho depredato i corpi dei cadaveri che mi devo curare avete dei medici si io ciò aspetta c'è lo spray prendi questo medici ma che buzzi tieni grazie cercherà che ci sono un po anche io vieni qua accarezziamo il biscottino stanno arrestando dove adesso c'è uno spider ma stiamo dominando sbaglio ha detto adesso moriamo ecco ce l'hai guffata vai da man tanto siamo le marche siamo top spider man che riguarda spari il tre blu poi de mark terra ciao de mark verrà uno guarda che stare da bel tipo che è restato e uno qua sotto dove vai per un attimo a berra grande ragazzi de mark on fire e de mark si vede che da un po che c'è la voglia di giocare la forza ragazzi line da sopra il tipo sta salendo andiamo a pigliarlo marco e vai 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 piacere in 100.000 spararli poveraggia eccolo qua è sceso di qua è mia ecco giù 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 morto la mia c'è una kill grande però visto che sono stato così quanto chi lo avete il beverone io c'ho cinque kill vabbè tieni quante quante ne avete voi io sei raga ci stanno pushando non riesco a lanciare il beverone a carne no vabbè non importa è lì è lì vai raga aiutate de mark questo è bravino arriva arriva il bravino è stra morto è stra morto l'ho craccato l'ho craccato non lo smettere amore respiro c'ho il mouse che la materiale non c'è bisogno di meglio il mouse che il cervello dai su che già possiamo far vincere io voglio fare solo 90 nella mia vita ragazzi vi dirò di più sono davanti a noi scusa mi è scusa mi sento la stilata scusa siete pronti per il torneo ragazzi qua ci assumono ma infatti un torneo scusate la prossima volta non ho capito io cioè io sei dove l'altro no 5 kg o marchini a 6 siamo 11 voi io ne ho sei io ne ho 5 no scusa io ne ho 7 scherzate stanno arrestando qualcuno è rimasto l'ultimo quindi ragazzi facciamo lo uccidiamo a piccolate mi sembra che secondo me ci ammazza mi piace forse è meglio non rischiare dai cerchiamo di fare la vittoria reale se vuoi la spittarlo no capirai uno c'è la pistola e non è che due no no è vero sono più di due hanno restato i tre fate attenzione allora potremmo ancora vi perdere gli sta dando le armi gli sta dando le armi sono sopra di loro una terra sono morti tiro fuoco tiro fuoco ok hanno preso danno dalla macchina che esplosa occhio al fuoco prima partita vabbè vabbè ragazzi dream team migliore fino ad ora ragazzi ragazzi perché questo video vi sia piaciuto carli e che ciao